Il destino dei poeti che non possono più essere capiti nel mito della grande idea sascritto. E' tempo di dar forma all'incomprensibile. L'ha preso vita da soli, mi fanno tutto da soli, non so, magia, magia. L'11 febbraio del 1963, nel proprio appartamento a Londra, è ritrovata morta la poetessa Silvia Vlani. E' la moglie trentenne di Ted Hughes. Vai pubblicare Ariane, che sancirà la mamma di poetessa di tua moglie. Bravo, bravo. E' il romanzo che finia fatto? Perso. Ma come hai fatto? Perso, no, me lo cura che il destino viene a riuscire a riuscire a recattere tua moglie. Come hai fatto? Perso, ma come hai fatto? L'avrà perso sua mamma. Il tecunda. Ted Hughes. Il destro musicale e il sinistro più razionale e devi svegliare la parte più antica del cervello umano, la vintarà, la vintarà, la vintarà, la vintarà, la vintarà, la vintarà. Dunque, vita uguale morte e viceversa, dire cose serie e dire fanciullesco e ritrovare il linguaggio della Dea. Ormai si divide tra la tenta e la macchina da scrivere, ha preso sicurezza, è sicura di sé, ed è proprio in questo momento che trova il marito che balta un altro in cucina. Ma dai tet, molla, molla, è vergogna. Aveva ragione perché vivevano a Berlino e Gutmann quando i nazisti decisero di persecutarli. Sì, e così la famiglia è costretta a trasferirsi prima a Pisa e poi in Israele. Ma la bambina, la bambina parla una miriade di lingue. Sì, 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 guardate, ha ereditato la medesima la grande, la grande, la grande, la grande, la grande. Sì, sì, sì. La superiorità del maschio sulla tenera. Così, dietro ad ogni eroe che uccide un drago o un serpente, si adombra un patriarca che usurpa il tempio della dea e ne viola la sacerdotessa patriarca, 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 patriarca! La mia morale? Ma non si può mica dire una cosa con un'altra, eh? Non si può dire una cosa e farne un'altra! Non si può dire una cosa e farne un'altra! Non si può dire una cosa e farne un'altra! È una tragedia! È normale, no? In ogni caso io non c'entro niente con loro. E allora vai via, no? Sì, sì, sì. La marginalità della poesia e della spiritualità in una società consumista che non ha questo modello. Silvia vede tutto, denuncia tutto, 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 tutto. Forse Silvia voleva dirci proprio questo. Che i muri presenti nella società si buttano giù solo con la... Magia! Tutti questi temi sono riconducibili ad uno solo. L'economia! L'economia! Certo! Certo! È sotto gli occhi di tutti che la vita non ha un suo posto nella legge e nell'economia! E di tutte le azioni di cura! La cura della crescita dei figli, certo, l'appodimento dei vecchi, ma anche... La cura dei propri spazi, la cura di quello che respiriamo, di quello che mangiamo, la cura che mettiamo nel capire chi siamo, dove stiamo andando! Il gioco, tutti i piacere, tutte le cose che permettono all'essere umano di crescere e di evolvere non hanno un nuovo posto nelle leggi dell'economia. Ma che cos'è la logica dei pazzi? Grazie! Grazie! Grazie!